va bene ok allora bello a tutti ragazzi sono master io siamo qui insieme per questo nuovo episodio dei pokemon neverwinter lo carico mi scuso perché ancora non c'è neverwinter però non lo so lo caricherò forse per domenica lo spero vivamente di riuscirci e vabbè per il resto possiamo possiamo andare avanti tranquille vediamo che succede in questo episodio in questo nuovo episodio abbiamo una sorpresa mentre stava allenando i polmon fuori parte ovviamente perché noi saremmo stressati a vedere sempre mentre alleni pokemon è successo qualcosa di incredibile è successo qualcosa di veramente epico parliamo bene si faccio vedere i pokemon l'ho allenato i pokemon mad keep mi si è evoluto in marston non so se si vede abbiamo la fangos bear la rugi vabbè ancora poste brutte però si è appena evoluto quindi bene poi ho allenato pocaiano l'ho portato all'11 zigzag mi ha lasciato una super pozione che però non avevo visto e talio l'ho portato al 13 perfetto adesso possiamo andare avanti e cominciare in questa avventura allora non mi ricordo che abbiamo fatto quindi vediamo che cosa la cosa che sa di per certo che adesso andremo a sfidare qualche allenatore che si trova qua da qualche parte si me lo ricordo bene tipo questo questo non mi ricordo se l'allenatore infatti ci ha azzeccato se lo arriviamo che poi mancia un sidot noi lo facciamo subito fuori con il nostro amico tai lo cambia io proverei a fare un combattimento con pocaiana vediamo che viene fuori nel momento pocaiana ancora è debole perché tanto si vuole tempo che diventa forte però ha fatto la sua fatta ha fatto la sua parte ok andiamo avanti se ce n'è qualche di un altro questo questo se non ci vuole sfidare il mare no non è vero questo è un terzo non ce ne frega proprio niente di noi noi andiamo avanti andiamo per queste vie adesso andiamo al bosco smeraldo questo ricordo un po' di bacche bacche bene le bacche bacca arancia grande utilità per lui vabbè però mettiamo tutto da parte che tanto non ci interessa è perfetto allora andiamo un po' questo sicuramente ci sfiderà strano ma certo accetto la sfida ho molti soldi cosa mi interessa quando però accetto la sfida non credo perché non ti ho chiesto niente però va bene andiamo avanti adesso qui non lo so probabilmente vedremo faremo in base a quando durerà il video faremo la prima palestra se ci riesco e poi dopo dopo non lo so dopo tacchino no non lo so vedremo se io la faccio a fare la prima la prima palestra un attimo che devo trovare il cronometro perché no non so quando mi dura il video lotta dai allora beccati questa ho beccata beccati questa veste battute non è vero va bene questo ci abbassa la difesa non ci interessa velocizziamo noi perché tanto non siamo troppo forti ci ha dato tipo una cosa tipo 1.400 monete del gioco non so qualche cosa quale sia l'unità di misura del denaro del denaro qua ci vogliono sfidare tutti ci vogliono tutti quanti penso poterci distruggere io voglio il pokemon di tipo acqua pensavo di prendere un cavolo perché ce l'abbiamo già no perché no cambiamo pokemon ci proverai con il nostro pokeyena sembra informissima un pokemon al 3 pokeyena senza problemi riuscire a eliminarlo perché comunque dice che pokeyena è inutile io quando ho finito il gioco quando quando sono andato nella palestra quando ho fatto la lega avevo avevo maghi e tienne squadre quando la palestra è tipo la campionessa di tipo di tipo spettro è stato veramente forte ha distrutto l'avversario insomma quindi sinceramente io questo qui lo terrò vediamo poi anche se dopo lo lascio e lo riprenderò quando lo fa la lega prima che attualmente ha qualche altro bagono che ci piace di più io non seguo io non seguo uno schema logico quando faccio quando faccio la squadra lo faccio per divertirlo non lo so quello che viene fuori viene fuori quando questi bagono ci vogliono sfidare per motivi a noi sconosciuti facciamo e vediamo di passare ecco adesso c'è una scenetta questa non la facciamo a una velocità perché abbastanza vabbè può parte della storia quindi quindi leggiamo non c'è neanche non ce n'è neanche l'ombra ciao hai per caso visto un po come ho chiamato su un misce da queste parti quel po che mi piace da matti di magma e non dovevo dire vabbè ho fatto uno spoiler però vabbè ti avevo tese una trappola mi hai mai perso tempo a girondolare per il bosco bello vero mi sono stufato di aspettare quindi eccomi qua e tu ricercatore della defa dammi quegli appunti scusate sono un po raffreddato sono un principio di raffreddore sono allenato di pogramma giusto ti prego aiutami vabbè la gente quando ci dice di proteggerlo abbuffo anche se noi non sappiamo manco chi sei che cosa credi di fare non vorrei mica proteggerlo non c'è alcuna pietà perché si misti negli affari del team magma nemmeno perché è ancora in teneretà dai su lottiamo vabbè su veniamo un po che poppa vieni fuori da questo cominciamo a indentrarci un po nella storia mamma mia a livello 9 è molto forte tra noi non ci fa paura perché siamo le pro certo che è proprio del fegato a indirete negli affari del team magma forza vogliarvi non mi piacerebbe purtroppo non ho più ballone ce la fa tutto da solo prova bene noi nel team magma siamo sulle tracce di qualcosa del ferrugivoli ok per oggi ti lascio andare c'è un indiso di dove dovremmo andare quale sarà la prossima città ebbene sì la città sarà ferrugivoli questo ci dà le megaball sdomino ogni volta che... no vabbè basta non voglio niente non voglio dire perché dopo di te che faccio spoiler però penso che tutti quanti hanno giocato a pokemon rubino quindi sanno già tutto ok andiamo un po avanti vediamo che succede guarda quando bisogna passare mezzo all'erba è sempre deprimente salve signore ma una birretta ci facciamo una birretta insieme vabbè questi combattioni veloci perché tanto non è che stanno fondamentali per la andamento della 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 storia diciamo master 2 trova etere questo è utile master y poi ci chiamiamo perché master io non c'entra non ci voleva entrare sinceramente un warpur non mi interessa venivamente quando avremo tagliato andremo pure la vediamo un po parliamo con questo omino che ci darà qualcosa di utile perché è un po' perché comincia tipo con trigo è utile un bene sito ci dovrebbe questi dovrebbe essere se mitraglia la spiegazione mettiamo anche vabbè ci spiegherà che cosa vuol dire che cos'è una macchina tecnica lo sanno altre bacche noi le prendiamo perché siamo troppo bravi va bene ok entriamo dentro si da entriamo dentro che dovremmo parlare con una di queste per darci il vaso guai ma se non sbaglio mamma no mamma mia che questo gioco è veramente apico ma adesso ci spiegherà boh come ti chiami bla bla ti piace vuoi sapere qualcosa sulle bacche diciamo sì non so perché ho detto sì però va bene veloce 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 e non ci guadagniamo niente che tristezza questa invece che ci dà ciao i fiori non bisogna molte cose ecco questo qui c'era il vaso guai ma serve per le bacche cosa che a noi non servirà vedendo che qui le bacche non cresceranno che poi il computer mi va in palla mi va che non ti sa che cosa mi apre però vabbè noi non ci facciamo caso perché i miei video sono belli per questo non imprevisti questa non si ferma questa dice eh e lì c'era una bacca arancia che è utile come dicevo il vaso guai ma gli servirà ben poco gli servirà perché tanto non è che possiamo cioè non essendo che qui il tempo non c'è ci dovrebbe stare nel gioco vero quindi non sarà utile per niente no quindi a capitarci pokemon a noi non ci interessa penso che il prossimo obiettivo debba essere vabbè mi raccomando qua qua dietro guardate ci stanno già un sacco di oggetti utili guardate qui in mezzo di questi spazi che se siamo fortunati troviamo qualcosa no cioè come dicevano mi sono scordato che stavo a di prima appena me lo ricordo lo dico trova super pozione roba utile dopo controlliamo se zigzag non avrà trovato qualcosa non ti sa mai un po' di fortuna mi diceva si cercate sempre in questi spazi che non ti sa mai per se trovi qualcosa mattino stai fortuna abbia trovato qualcosina super pozione tipo bene adesso andiamo avanti per di qua no che succede eh guarda che scatto questa è la fidanzata di quel ladro questa è un'altra che c'è soldi quindi sono soldi per noi ma ne cala cala soldi soldi beccata niente beccata perfetto adesso cambierei pogman iniziale perchè adesso per esempio un bambastab che per la palestra che faremo sarà utile lui e questa ci ha visto da 300 metri di distanza perfetto livello 18 per lui vediamo no 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 shulumi mi sta mi sta in dipatico proprio così a pelle bam beccata per lui livello 15 tranquillo easy questo fai fail vediamo un po' allora cambiamo l'ordine poche ieri non lo avremo più allenato per il prossimo episodio qui abbiamo due pokemon ci vorranno distruggere un attacco tale lo oriamo comunque poi un attacco anche lui vabbè l'altezza del livello si nota quando si gioca perchè si vede che comunque sia questo lo spiega lo spiega è la stessa cosa tanto solo dei Magikarp da pochi punti di esperienza però noi li sfidiamo perchè siamo troppo bravi li sfidiamo tutti parlando con questa deliziosa nondina qui ci tra una bacca stagna se mi ricordo bene un attimo mi ricordavo bene si capisce poco che ci ho già giocato però ecco lo stesso è giusto per farlo un bel video perchè tanto Magikarp da talmente pochi punti di esperienza che non so dire a fare niente guarda che roba se passiamo qui ragazzi ci possiamo trovare un oggetto il V6X non serve a niente quell'oggetto però uno uno se lo rivende no no ci fai soldi ci imballiamo con dei cosi perchè siamo troppo veloci adesso siamo a Ferrugipoli un mercat non è quello che volevo fare lo prendiamo super pozioni ne prendiamo tre e basta per il resto possiamo andare avanti così dovremmo che ce ne 5 o 6 andiamo qui il gioco è più utile giusto per caricare gli attacchi a posto perfetto adesso usciamo mi raccomando quando venite qui andate in questa casa che c'è la casa del signor tagli che provate un po' immaginare cosa ci darà un grande sesso lo scopriremo con l'espressione terminata la scioltezza vabbè i pokemon bla 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 ok sarà capace vabbè ci darà l'MN quindi ho veduto un po' cosa MN01 che cioè sarebbe taglio la casa del signor tagli prendiamo tagli taglio cioè la casa del signor tagli prendiamo taglio normale vabbè si dice c'è una medaglia pietra per usarla l'infone di match e bla 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 adesso abbiamo curato il pokemon a questo punto andiamo pure qui dentro potrebbe sapere stata la scuola per allenatori che se parliamo con quel presunto insegnante che c'è qui dentro ci vorrebbe dare un rapido artigli se parliamo se parliamo con questo beh rapid artigli lo sanno tutti serve per avere più probabilità di attaccare per primi in una lotta quindi adesso faremo la palestra adesso dovrebbe essere un'altra scenetta mi sa che dovremmo avere non è vero stavo scherzando adesso facciamo la palestra facciamo facciamo abbastanza velocemente e poi andiamo andiamo al pokémarket curiamo i pokém vai uscire al pokémarket al centro il pokém curiamo i pokém e possiamo finire la parte ok io comincio a fare i fail perchè sono troppo forte perfetto geodude noi continuiamo con il nostro pokém che sinceramente non capisco mi sa che mentre stavo a fare come uso il roblocizzato ho paura di non aver fatto in modo che lui imparasse colpo di fango però vabbè io spero di aver sbagliato proprio colpo di fango è fondamentale quando faremo la palestra di tipo elettro questa è la capopalestra vorremmo sconvincere abbastanza agilmente ma cominciamo con un po' ma non tanto forte quindi non possiamo ancorarlo con questo è un po' più dura perchè è più resistente però se abbiamo i pokémon ben allenati pure lui non c'era alcun tipo di problemi però mi raccomando i pokémon allenati ogni volta andate avanti allenati i pokémon perchè se no potreste cominciare a rogliare questo gioco come pochi ne so qualcosa le prime volte che giocavo senza allenare i pokémon andavo avanti solamente mi hanno ho odiato questo pokémon adesso abbiamo vinto la prima medaglia bella adesso ci sentiamo importanti abito la medaglia pietra siamo troppo forti regà beh adesso ci dirà ci darà una mossa che dovrebbe essere rocciatomba ci dirà che possiamo usare taglio all'infuori dalle match dopo sarà utile perchè andando avanti vorremmo usarlo per forza vabbè si si ok metti puoi usarlo ok e basta usciamo adesso questa qui è una scenetta che vediamo lasciami andare eccoci qua aspetta per favore non prenderti la mia merce vabbè questo lo scopriamo nella prossima puntata cosa è successo al nostro caro amico io andando adesso andrei a curare i pokémon un saluto da masterio spero che questa parte possa piacervi mi raccomando mi raccomando continuate a seguirci e continuate a seguirla e mettete un commento se vi piace la intro e bella